Andiamo! Ferreta! 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 Allora, scusere gli ospiti, testa o croce? Chi vince ricorda che può scegliere anche la palla da questa. Croce! Ragazzi in bocca al lupo di nuovo! Buona raga! In bocca al lupo! Ciao ragazzi in bocca al lupo! Ciao ragazzi in bocca al lupo! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Buona parte! Grazie! Leii e... Pronti? Pronti ad allettare? Sì Pronti ad allettare? Pronti ad allettare? Tutta cosa che ci siamo inizi Non è quello che vogliamo fare Ok? Siamo arrivati a cercare di pensare che non faremo Sireni? Aiutiamo Lavoriamo da squadra Pronti? Uno, due, tre Quarta! Dai raga! Dai! Visto Dai! No! No! No!